Ragazzi, effettivamente era da un bel po' di tempo, no, che vi dicevo questa cosa Voglio realizzare video all'impiedi, così, bello, no, un pochettino sciolto In modo da potermi spostare nell'inquadratura, mettermi un attimino più a destra Un attimino più a sinistra, ma soprattutto mettermi centrale con due luci, così, a led Vabbè, ovviamente sto scherzando, ragazzi, questa era semplicemente una gag abbastanza uscita male Perché non sono un attore, ma vabbè Semplicemente per dire che, finalmente, iniziamo una nuova stagione di Gio 99 Quindi stanno per arrivare cose interessanti, nuove serie, nuove... Non vedo l'ora, e quindi nulla, iniziamo e vi parlo, prima di tutto, del mio nuovo studio Ma soprattutto del mio nuovo desk setup Allora, ragazzi, come sapete, è effettivamente da un bel po' di tempo Diciamo che sono un paio d'anni che, praticamente, dappertutto, ho scritto principalmente una cosa Anche sul mio bullet journal, o meglio, aggiornare il setup Comunque avevo questo obiettivo, quello di cambiare un attimino studio e rinnovare un pochettino la cosa Per alzare un attimino ancora di più l'asticella E finalmente, come da titolo, ci sono riuscito Sono arrivato un attimino a quello che effettivamente volevo realizzare E oggi voglio parlarvi proprio di questo Ma, prima di andare un attimino a vedere tutte le geek e le cose particolari del setup Voglio regalarvi, o comunque iniziare il video, come piace a noi E quindi con i soliti B-roll, quelli soliti clip, pan, tilt, cose Eh? Andiamo! Ciao! Ragazzi, come avete visto, effettivamente sono cambiati un bel 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 Po' di cose per quanto riguarda proprio il mio desk setup E secondo me al centro, e la prima cosa poi di cui dobbiamo proprio subito parlare È la scrivania, perché ci dà, o comunque mi ha permesso poi di dare effettivamente il look generale Questo look un attimino moderno, minimal, un pochettino così particolare Se così possiamo dire E nello specifico ho optato per una scrivania di Ikea Che si chiama principalmente Alex Desk Una scrivania secondo me perfetta per due motivi O comunque nel mio caso perfetta per due motivi generali Il primo è che ha questi due cassetti veramente perfetti Veramente grandi, spaziosi Dove potete organizzare un attimino libri E poi ovviamente anche gadget che vi servono per il lavoro Io così ho fatto per il lavoro, per lo studio, ho messo l'iPad anche lì E poi ha un'altra caratteristica secondo me spettacolare O meglio Una piccola, diciamo, un piccolo sportellino nel finale della scrivania Dedicato al cable management Che si apre poi a conchiglia E ragazzi è veramente la svolta Perché vi permette di avere veramente un setup super pulito Senza nessun cavo Ed è una cosa spettacolare Semplicemente a me si vedono quello del scarpetto O comunque della multi O comunque messa all'interno poi del cofanetto Se possiamo dire della scrivania E quello della lampada E poi qualche filo proprio così sfuggito del Mac Perché non ho preso ancora la dock di Elgato Perché costa veramente tanto Ma a breve vi farò vedere qualcosa di interessante Che sono andato poi a utilizzare O comunque un piccolo martingegno Qualcosa di interessante Detto questo andiamo subito avanti E partiamo con le cose che effettivamente un pochettino sapete già Perché già facevano parte del mio vecchio setup E nello specifico vi voglio parlare subito del monitor Nello specifico parliamo di un AOC Da 24 pollici Secondo me spettacolare Per il prezzo tipo 100€ anche meno in offerta È veramente uno dei migliori Ve l'assicuro Perché veramente ragazzi è non solo bello esteticamente Per diciamo questo piccolo piedino molto particolare Per il fatto che effettivamente non ha bordi È veramente super super ottimizzato Ma è veramente ottimo per la qualità in generale L'ho un attimino settato Finalmente sono riuscito a farlo proprio come dico io E anche per quanto riguarda i colori La qualità in generale è un full HD È veramente perfetto per quello che devo fare io Vorrei prendere qualcosina in più Però per il momento va veramente a bomba E ve lo straconsiglio Andando avanti poi Abbiamo ovviamente dei piccoli cambiamenti Abbiamo un trackpad Voglio dire un mousepad Un attimino grosso Praticamente grigio Che richiama un pochettino la parete E l'ho preso in questa specie di tessutino Perché volevo un attimino dare un look leggermente diverso E i soliti mousepad si sporcano troppo velocemente Devi stare sempre lì a pulire Invece questo qui è veramente perfetto Scrolla veramente benissimo il mouse E mi permette un attimino di prendere una superficie Un attimino più ampia Nello specifico per quanto riguarda le periferiche Ho cambiato Ho diciamo optato per un mouse di casa Apple Quindi il solito Magic Mouse Dovrebbe chiamarsi così Comodo Ma spesso utilizzo ovviamente Il mouse di Logitech L'MX Master 2 Comodissimo Per l'editing di video Ma diciamo Alterna un attimino la cosa Dipende un pochettino da come sto con la testa In linea generale Ma La cosa più figa Che effettivamente Mi sta proprio svoltando il lavoro Soprattutto la scrittura È ovviamente la tastiera Una nuova tastiera Meccanica Veramente ragazzi Spettacolare che vi straconsiglio subito Di acquistare se state cercando una tastiera Nello specifico Parliamo di una tastiera di casa Drevo L'ho acquistata praticamente su Amazon Non è Bluetooth Ma vi dicevo che appunto Grazie a questo piccolo cofanetto Comunque della scrivania di Esquad Nasconderà al meglio il cavo Ma ragazzi È veramente uno spettacolo Potete switchare dalla modalità Windows a Mac Per le varie scorciature da tastiera Il che è veramente top Potete cambiare colori È praticamente completamente RGB Ed è una cosa super comoda Soprattutto di notte Perché riuscite a vedere effettivamente i tasti Cosa che prima Con questa qui Adesso la faccio vedere Non potevo fare Perché utilizzavo questa Logitech qui Veramente economica Che vi consiglio Ma Non potevo effettivamente fare Un bel po' di cose Comunque avevo principalmente L'esigenza di retroilluminazione Ma soprattutto la tastiera meccanica In questo caso con switch marroni Vi permette proprio di scrivere al meglio Ci ho preso già la mano Ed è una cosa spettacolare Vi stavo dicendo che comunque RGB Vi permette di fare diversi giochi di colore Potete cambiare addirittura i colori Nel lato Ed è super personalizzabile Ha anche un software dedicato Quindi magari fateci O comunque dateci un'occhiata Il prezzo è super accessibile Ragazzi l'ho pagata Semplicemente 50 euro Sembra una telepromozione Tipo qualcosa in televisione Però Fidatevi È veramente spettacolare La sto amando E ve la straconsiglio Se volete un piccolo approfondimento Una piccola recezione Fatemelo sapere Ma comunque vi dico già Che è disponibile anche In versione nera Io l'ho presa bianca Perché mi piaceva molto molto di più E non soffre di nessun problema Ritardi eccetera eccetera E ragazzi All'entrata Type-C Quindi veramente Parliamo di cose top Proprio alto livello Andando avanti poi C'è da dire un'altra piccola cosa Ovviamente abbiamo la solita piantina di Ikea Quella lì classica Ma abbiamo un nuovo stand Per quanto riguarda il Mac E nello specifico Ho preso questo qui Di Non mi ricordo il nome Ma vi lascerò il link Qui sulle descrizione Veramente ragazzi Spettacolare Realizzato veramente Molto molto bene Veramente rigido Realizzato tutto in alluminio L'ho preso ovviamente In colorazione al reggente Perché si abbina Al meglio Con il mio Bellissimo MacBook Air Base Che ormai è diventata La mia O comunque è diventata La mia macchina principale Per il lavoro E ho scelto questo Diciamo questo stand Perché non solo Me lo alza leggermente di più E me lo mette praticamente Quasi a livello con il monitor Cosa veramente comoda E quindi posso utilizzare Appunto due monitor Adesso per lavorare Cosa veramente comodissima Ma ha anche Delle piccole griglie Che vi permettono Un attimino di Così forse far Arieggiare un attimino meglio Il Mac Respirare un attimino meglio Il Mac Ma soprattutto Ha un piccolo buco Un piccolo foro Dove potete passare I vari cavi Ed è proprio lì Che nasce la magia Perché sono andato Con un piccolo Scotch biadesivo Non so come definirlo Vi lascerò magari Sempre il link in descrizione Lo state vedendo anche Qui proprio In sovrimpressione Con una clip Sono andato ad attaccare L'hub USB-C Sotto la Sotto lo stand E quindi Con un semplice cavolo Attacco Io ho tutto bello Vuoto sotto Quindi bello pulito E riesco a nascondere A gestire al meglio I cavi E quindi guadagno Non solo Tre porte USB Grazie all'hub Di Kingston Che vi straconsiglio Perché è veramente Fatto molto molto bene Costicchia Ma è veramente ottimo Poi guadagno Due entrate USB-C In più E guadagno L'SD E la microSD Quindi riesco a lavorare A gestire praticamente Il tutto Al meglio E anche l'entrata HDMI Cosa che però Non utilizzo Perché utilizzo Un cavo diretto USB-C HDMI Per collegare Il Mac Al monitor Cosa veramente Ottima Di Spigen Ve la straconsiglio Andando avanti Poi c'è ancora Altro da dire O meglio Ho la mia solita Lampada Di Inatec Ovviamente Lampada di fiducia Che utilizzo da anni Ed è veramente Spettacolare Veramente ragazzi Ve la straconsiglio E vi ho inserito Una piccola Diciamo Lampadina Che non mi ricordo Anche questo caso Il nome Ma vi ricordo Sempre che trovate Il link In descrizione Comandabile Con Alexa Qui ho la mia Applicazione Vedete che posso Cambiare Il colore E gestire al meglio Ovviamente RGB E vi permette anche Di dare look leggermente Diversi poi Ai video Cosa veramente Che mi sta svoltando Vedrete poi Diverse inquadrature Molto molto interessanti E per finire Ma non per importanza Abbiamo ovviamente Le mie casse Casse monitor Di Logitech E nello specifico Parliamo delle Logitech MX Sound Ragazzi Per il prezzo Anche in questo caso Sono le migliori Le utilizzo ormai Da tempo E ragazzi Hanno un audio Dei bassi Medi Sono veramente Fatte molto molto bene E sono piacevoli E perfette Sia per L'ascolto Di musica Che la visione Di video Che proprio Per l'editing Quindi ve le straconsiglio Per il prezzo Sono ottime Sono bluetooth E si riescono a collegare A switchare Da diversi dispositivi E poi hanno un piccolo sensore Che una volta avvicinata La mano Si vanno ad accendere Potete gestire poi In maniera soft touch O comunque tramite I pulsanti soft touch Il volume E poi anche Il padding Del bluetooth Quindi veramente Super tech E super super fighe Detto questo Penso di avermi detto Praticamente tutto Sì Ovviamente utilizzo anche Il tablet Su questa postazione Ma non lo inserisco Principalmente Perché lo tengo Nella maggior parte Dei casi Nel cassetto E l'utilizzo Semplicemente Per studiare Tutte queste cose qui Ma è un discorso Che affronteremo Sul secondo canale Arrivati a questo punto Però ragazzi Direi che per oggi Potrebbe anche bastare Io vi ringrazio Per tutto il supporto Spero Appunto Che Tutto ciò Vi piaccia Sia di vostro gradimento Fatemi sapere Se avete suggerimenti Cose da consigliare Acquisti E cose Perché ovviamente C'è sempre un pochettino Da modificare Voglio aggiungere Un bel po' di cose Qui nello studio E nulla Vi ricordo sempre Che qui sotto la descrizione Voi trovate il link Per Vedere magari Tutti i prodotti Il link di tutti i social Soprattutto Instagram Mi raccomando Seguitemi Perché è molto importante E inoltre trovate anche Il link del secondo canale Dove vi spiegherò Un bel po' di cose Proprio Su come ho pensato Per la produttività Questo studio Detto questo Noi ci vediamo Sempre qui online Per nuovi video Un bacione Grazie Un bacione Ma che è stato Un bacione E un abbraccio Grazie mille Per il supporto E Buona giornata